buonasera a tutti i signori sono ronni neppone polverici qui direte scusione mondiale interplanetaria unica al mondo molto probabilmente ebbene si col caso di gran d'agello gran d'agello qui si andrà a collegare con proprio con lui il nostro il vostro lessono più che lessono deve usare dire proprio jack sparro e capirete perché amico rudy buonasera rudy buonasera buonasera a tutti i signori si salvatemi in versione jack sparro il pirata di carrivi e mi sono rammato con il vascello vicino c'è un caso dei ronni neppone da polverici lo spicco e guardate questa robetta succuletta che aveva un risultato da mangiare un po' che dici questa torta di fare una cosa veramente strabordata da altri tempi vi giuro che ho già la colina in bocca po' che dici po' che dici come si fa a sentire una cosa così deliziosa c'è avuto un po' una fortuna fermarmi qua vicino con il vascello dei pirati dei pirati porco dici è una cosa per questo truccetto qua guardate una cosa squisiziosa una cosa la cosa è una cosa meno mangiava pa bubi di giuro fa roba questo saccovici pa bubi saccovici sono i rubi